Nella giornata di ieri i carabinieri della tenenza di Pagani hanno arrestato un 51enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, resosi responsabile di detenzione di armi clandestine, esplosioni pericolose e danneggiamento. L'uomo ha esploso colpi di arma da fuoco da un balcone situato in via De Gasperi, danneggiando alcuni autoveicoli parcheggiati nelle adiacenze. L'intervento dei militari ha consentito di fermare l'uomo, le cui azioni avrebbero potuto produrre conseguenze ben peggiori. I carabinieri infatti, dopo aver sgomberato l'area mettendo in sicurezza i passanti, lo hanno prontamente rintracciato, rimbenendogli addosso nel corso di perquisizione sia il revolver che aveva poc'anzi utilizzato che una seconda pistola semi-automatica. Entrambe le armi, risultate pistole a salve opportunamente modificate per essere rese idonee allo sparo, sono state sottoposte a sequestro, mentre il 51enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Salerno a disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.